Musica Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ma già qui ti riesce bene, sono tutti i posti, come se sei un contono su l'angolo, ma potremmo tempo di spinto, allora devi essere lato a poi metto. Grazie a tutti. Sì, sì, ti ascolto, ti ascolto, sì, sì, ti sento Sì, sì, ti ascolto, ti ascolto o meno, ma non sono Sì. Grazie a tutti.